Sottomarina. Il corpo di un uomo è stato ripescato questa mattina attorno alle 7 in spiaggia. Dall'acqua il vento della notte l'ha probabilmente fatto avvicinare alla battigia. Ad accorgersi del corpo sono stati gli operatori di Veritas che stavano operando nell'arenile dei bagni Splash, all'altezza della torretta numero 23. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato, supportati anche dai carabinieri. Non è ancora chiaro da quanto l'uomo si trovasse in acqua, anche se pare sia stato abbastanza lungo visto le cattive condizioni del cadavere. Al polso un orologio che potrebbe aiutare a risalire alla sua identità. Una delle prime ipotesi è che si possa trattare di Palmiro Zennaro, il 75enne di Pellestrina scomparso nei giorni scorsi dopo essere uscito per una camminata in zona Caroman. Sono comunque in corso in queste ore tutti i necessari accertamenti. Il corpo è stato affidato ai sanitari dell'ASL 14. Marcon, operazione antidroga dei carabinieri del nucleo operativo di Mestre, che hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Alin Florentin Solomon, 23enne di origini rumene, residente a Marcon, incensurato. I carabinieri, a seguito di approfonditi accertamenti, hanno acquisito notizie su un soggetto di giovane età che si occupava dello smercio sul territorio delle sostanze stupefacenti a tossicodipendenti del posto oppure ad altri spacciatori operanti sumestre. Nelle scorse ore il blitz decisivo, con i militari appostati nei pressi della casa del ragazzo, arrestato mentre stava per vendere una dose. In casa la droga era stata nascosta all'interno degli scarponi da sci, in tutto 117 grammi di cocaina. San Dona, pulizia straordinaria della piazza principale della città da parte di alcuni richiedenti asilo. Il gruppo, costituito da quattro ragazzi ganesi coordinati da personale della cooperativa Il Villaggio Globale, che gestisce la permanenza dei profughi, ha estirpato le erbacce che stavano nascendo tra le piastrelle della piazza e pulito alcune macchie. La filosofia è sempre quella di impiegare i profughi in attività non concorrenziali con i lavoratori locali o con eventuali appalti già posti in essere, ha sottolineato l'amministrazione, come in questo caso in cui si sono dati da fare per una pulizia straordinaria non prevista anche in vista della festa che ci sarà nel weekend. Alla fine del lavoro il vice sindaco ha offerto a tutti il caffè. Mestre. La denuncia è stata fatta dal consigliere comunale del PD Nicola Pellicani. In via Gazzera Alta, all'altezza del Civico 13, c'è una perdita dall'acquedotto che trasporta l'acqua a Venezia, perdita dal diametro di un metro. Gli abitanti hanno da tempo chiesto l'intervento del comune di Veritas. I tecnici hanno già avuto modo di accertare attraverso prelievi di campioni che si tratta di acqua potabile, ma nonostante tutto dopo otto anni la perdita continua. Pellicani si chiede quanti metri cubi di acqua potabile sono stati sprecati in questo periodo. Nei giorni scorsi i tecnici di Veritas si sono nuovamente riuniti a consulto e pare che quando riprenderanno i cantieri in zona interverranno.